Ciao ragazzi come state? Allora oggi più o meno sono passati quasi 4 anni dal primo iPhone che ho comprato Allora, il primo iPhone in verità è stato l'iPhone 4S di mia sorella Però il primo iPhone che ho comprato l'ho comprato a luglio del 2016 Ho comprato l'iPhone SE, era appena uscito ed era abbastanza piccolo e portatile Allora ho deciso di comprarlo In questo video vediamo come funziona dopo 3 anni e mezzo o 4 che è uscito Per quanto riguarda la forma sono passato da un 4 pollici di larghezza dello schermo a un 6.1 E infatti le prime volte facevo fatica anche a tenerlo in mano l'iPhone XR perché era abbastanza grosso Inoltre a me aveva sempre affascinato la ricarica wireless Infatti con l'iPhone SE si poteva ricaricare solo tramite cavo Invece con l'iPhone XR io carico quasi tutti i giorni l'iPhone tramite la piattaforma wireless Allora ora andiamo a vedere la velocità Apriamo un po' di applicazioni Per vedere come funziona Se funziona in modo fluido ma comunque l'ho utilizzato nei giorni scorsi E vi posso garantire che funziona ancora in modo fluido Per quanto riguarda la mia opinione la grande differenza che c'è tra i due telefoni Vabbè oltre alla forma è la telecamera Io utilizzo tutti i giorni la telecamera, faccio video, faccio foto E devo dire che il primo aspetto che mi ha colpito molto è stato il ritratto Perché comunque girando per il mondo così ho fatto un sacco di fotografie anche utilizzando un sacco il ritratto E devo dire che si può decidere tra ritratto normale o set fotografico e funziona benissimo Inoltre per quanto riguarda i video Sull'iPhone SE c'è scritto che filma in 4K 60fps Però confrontato con l'iPhone XR si vede tanto la differenza nonostante la risoluzione sia la stessa Invece i video frontali l'iPhone SE li gira in HD 720 megapixel Invece l'iPhone XR li gira in HD 60fps in 1080p Un aspetto che non mi piace dall'iPhone XR è la fotocamera che sporge dal corpo Perché spesso quando ad esempio mi cade il telefono mi è capitato di rigare proprio la fotocamera E nelle foto e nei video non si vede Comunque è abbastanza fragile Invece per quanto riguarda l'iPhone SE è tutta integrata Nonostante l'iPhone SE abbia 3 anni e mezzo 4 Devo fare complimenti a Apple perché funziona veramente bene Infatti spesso Non spesso però Se dovessi avere E mi è già capitato di avere problemi Con l'iPhone XR Ad esempio quando è scarico Ma anche se ha dei bug Mi è già capitato di utilizzare l'iPhone SE E devo dire che nonostante abbia 3 anni e mezzo è molto fluido Nonostante sia vecchio l'ha tenuto aggiornato Infatti tuttora Anche se non è più vendibile Anche se non viene più venduto su Apple.com È molto fluido E ci sono tutti nuovi aggiornamenti Penso di aver detto tutto ciò che penso sull'iPhone SE E allora da questo video Dall'iPhone SE è tutto Iscrivetevi al canale E mettete un mi piace Ciao